Ciao a tutti ragazzi e benvenuti, bentornati sul mio canale per questo nuovo video dedicato quest'oggi a Captain Tsubasa Rise of New Champion. Prima di cominciare saluto Salvatore Renna e Fire Psycho. Mi hanno chiesto in realtà per un video di Dream Team, spero che Rise of New Champion vada bene ugualmente come video per i saluti. Questo video fa parte dell'elenco di quei video che originariamente non avevo intenzione di fare perché a me non piace fare tanto i video sui forse, sui ma, sui però e soprattutto non mi piace fare un video più su cose che non sappiamo che su cose che sappiamo. Però per questa volta ho fatto un'eccezione perché veramente, come si suol dire in questi casi, la richiesta per questo video è stata di gran lunga superiore ai rifiuti che potevo permettermi di dare. Due cose sostanzialmente vediamo in questo video, la prima l'abbiamo già vista e la vedremo un po' a ripetizione ancora per qualche minuto. Hanno finalmente messo online il nostro trailer, il trailer della nazionale italiana con il nostro Gino e con Leonardo Rusciano. Leonardo Rusciano del quale siamo riusciti anche ad avere una storia, ad approfondire un pochettino il background sempre grazie ai ragazzi della pagina di Captain Tsubasa Rise of New Champion, pagina Facebook di Captain Tsubasa Rise of New Champion, vi lascio sempre il link qui in descrizione. Nella fattispecie bisogna ringraziare Luca Spalanzani che si è appropinquato per tradurre in un italiano corretto e non con Google Translate la storia che introduce il nostro Rusciano ed è una bella storia. Per stringere un pochettino, visto che il torneo in Francia è stato appunto sostituito dal torneo che noi andremo a giocare negli Stati Uniti in Captain Tsubasa Rise of New Champion, i dirigenti della nazionale italiana erano tutti un pochettino preoccupati perché sì, noi siamo molto forti in difesa, abbiamo un gran collettivo, Hernandez è un gran capitano, però in attacco non segniamo neanche se ci pregano. E allora come possiamo fare? La preoccupazione cresce in virtù del fatto che al torneo si sono giunte delle squadre che originariamente non dovevano partecipare al torneo francese, è chiaro riferimento all'Olanda, credo più che al Senegal, vista comunque la tradizione europea della banda orange e viene fatto anche riferimento al fatto che sia la Germania che la Francia, quindi altre nazioni europee, si stanno rafforzando appunto in vista di quel torneo. La nazionale italiana pecca in attacco, pecca di potenziale offensivo e a quel punto l'allenatore non vede altra soluzione che convocare appunto Leonardo Rusciano. Leonardo Rusciano gioca in una piccola squadra del sud dell'Italia e segna gol a Caterva praticamente contro chiunque, il problema è che ha un carattere che Napoleon della Francia a confronto potrebbe farsi sacerdote, giusto per rendere un pochettino l'idea. Viene convocato Rusciano, Rusciano si presenta in un allenamento, non stringe la mano a nessuno, inizia praticamente ad insultare tutti i propri compagni di squadra e li sfida in un regolarissimo confronto 1 contro 10. Una cosa tranquilla, proprio da ragazzetti, da amici di vecchia data, un bel 1 contro 10 dove Rusciano alla fine riesce anche a segnare seppur con un autorete di Conti riesce a fare gol a Hernandez. Hernandez in realtà aveva parato il primo tiro di Rusciano, l'aveva respinto, Rusciano aveva tirato dopo la respinta di Hernandez, Hernandez si era rituffato a preparare il tiro di Rusciano, Conti che si era sentito diciamo così umiliato da Rusciano in quanto è stato il primo del resto della compagina italiana ad essere stato driblato, si è messo sulla traiettoria del tiro per deviarlo e ha tratto così in inganno il buon Gino. Di fatto Rusciano comunque sebbene con questa botta di fortuna o di sfortuna secondo come la si vuole vedere ha vinto il suo 1 contro 10 con tutto il resto dei giocatori della nazionale italiana. Alla fine di questo si parietto Gino riconosce le sue abilità, si propone per stringergli la mano, Leonardo gli dà le spalle come per dire sì va bene sei forte tutto quello che vuoi però io non voglio avere nulla a che fare con uno che quando perde sta lì a leccarsi le ferite. Un carattere tranquillo è il buon Rusciano, pare sia una specie di si mormora che Takagi per creare Rusciano si sia ispirato a una specie di fusion, di fusione tra Balotelli e Cassano ma secondo me qua è peggio, qua siamo ai livelli di Balotelli e Cassano tipo con l'anima di Gaza Gasconi e l'ego di Ibraimovic, qualcosa più o meno del genere dovrebbe essere il nostro buon Leonardo. Ad ogni modo è un personaggio interessantissimo, fatto sta che comunque nei mondiali under 16 di che se ne dica la nazionale italiana è rappresentata comunque come quella con la difesa più forte e lui da solo se li è fumati tutti. Non è la novità però più importante, non è questo per il quale sto registrando questo video, è la novità più importante e che è stata finalmente ufficializzata stavolta si può dire, una modalità Dream Team. Vediamo qua a destra e a sinistra due formazioni prese con un mix di giocatori fra quelli presenti appunto delle varie squadre che parteciperanno al torneo internazionale. Cosa sappiamo di questa modalità Dream Team? In realtà molto 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 poco, sappiamo giusto che si potrà creare una squadra con appunto una compagine di giocatori presi dappertutto e che potremo anche inserire i nostri alter ego, i giocatori che creeremo noi per la modalità New Hero. Da qua partono una serie di punti di domanda alla quale purtroppo per il momento non c'è risposta, ovvero questa squadra si potrà utilizzare sia in PvP che PvE? Non si sa, ma molto probabilmente, credo io, suppongo io di sì. Ci sarà qualche vantaggio nell'utilizzare giocatori creati ad hoc come il New Hero piuttosto che giocatori già esistenti? Questo non si sa. Si potrà inserire un solo giocatore New Hero o se ne potranno inserire di più? Non si sa. Potremo creare addirittura una formazione intera, completamente composta da giocatori editati dalla testa ai piedi da noi? Questo non si sa. Insomma capite che purtroppo i punti di domanda in merito a questa modalità sono tantissimi. Sarà gestito stile Ultimate Team di FIFA? Non si sa. Non si sa veramente niente. Però già il fatto che ci sia questa modalità e che adesso sia effettivamente ufficializzata al 100% ci fa solo piacere. Intanto giustamente devo ringraziare Asashi 101 per gli scan. Lui ormai è lo scanner ufficiale per quello che riguarda il V-Jump in Giappone. Altre cose che sappiamo di questa modalità ci sarà un buon editor sia per la personalizzazione dei loghi, degli stemmi delle squadre che per quello che riguarda le divise. Il resto purtroppo, ripeto, è tutta una serie infinita di punti di domanda. funzionerà magari come Captain Tsubasa Dream Team, funzionerà magari come FIFA Ultimate Team si potranno usare magari solo per le partite arcade, si potranno utilizzare solo per le partite online. Ripeto, tutto questo non si sa. Però già il fatto di poter costruire una squadra con campioni scelti da noi era, diciamo così, la cosa più richiesta, la modalità più richiesta, quella che sognavamo veramente tutti in attesa di questo gioco. Ora, il contorno per rendere questo gioco un piccolo capolavoro c'è tutto. Resta ancora da analizzare il piatto principale, ovvero il gameplay. Sapete che io già dai primi video di gameplay sono stato molto cauto in merito a Captain Tsubasa Rise of New Champions perché sì, le cinematiche sono veramente da impazzire, sono fantastiche, sono spettacolari, ma il gameplay vero e proprio non è piaciuto proprio a tutti. E fra questi tutti, fra questi non tutti, metto anche il sottoscritto. Purtroppo non c'è ancora una data per una demo, così come al momento in cui io sto registrando questo video il gioco non è ancora stato messo in pre-order sul PlayStation Store e anche qua, quando lo metteranno in pre-order ormai non è che manca tantissimo all'uscita. Anche questo è un bel punto di domanda. Negli ultimi giorni sullo store della Bandai Namco era riapparsa la Champion Edition che però è riandata esaurita veramente nell'arco di poche ore. Ripeto quello che ho già detto in alcuni video precedenti, ragazzi. Se siete interessati nello specifico a un'edizione che al momento risulta esaurita, tenete sempre sotto d'occhio lo store della Bandai Namco per quello che riguarda il gioco perché spesso e volentieri c'è gente che magari disdice perché preferisce fare il pre-order da un'altra parte perché da un'altra parte magari risparmia qualcosina eccetera eccetera o perché pensa che a un certo punto la spesa possa essere eccessiva e quindi allora decide di disdire il gioco piuttosto che sì però il mese prima esce l'altro giochino, il mese dopo ne esce un altro ancora quindi quel mese lì è meglio che risparmi un pochettino di soldi. Insomma capita sempre per tutti i giochi che prima dell'uscita qualche ordine venga disdetto e quando succede le edizioni nello specifico vengono rimesse in vendita dallo store ufficiale quindi tenetelo sempre sotto occhio. Ripeto la Champion Edition era stata rimessa in vendita ma è riandata esaurita proprio nell'arco di pochissime ore ma non è detto che da qui all'uscita del gioco possa possa essere rimessa in vendita ancora. Quindi ragazzi per oggi era tutto le novità ripeto sono poche ma sono belle e sono importanti il 28 agosto si avvicina lo attendiamo questo punto veramente tutti con estrema impazienza nel suo piccolo spero che il video vi sia piaciuto nonostante ripeto i punti di domanda siano superiori alle risposte che abbiamo potuto avere quest'oggi. Per oggi è tutto pace belli alla prossima